Hamza, grazie per il tuo commento. Dal tuo commento io capisco che sei molto sicuro di te. Io sono sicuro, sicura di me. Tu sei sicuro, sicura di te. Lui è sicuro di sé. Lei è sicura di sé. Noi siamo sicuri, sicure di noi. Voi siete sicuri, sicure di voi. Loro sono sicuri, sicure di sé. Ed è la tua conoscenza della lingua italiana perché tu scrivi che vieni dal Marocco. Io vengo, tu vieni, lui, lei viene. Noi veniamo, voi venite, loro vengono. Vengo dal Marocco, parlo italiano e ho sufficienti informazioni su tutto. Allora adesso io ho un dubbio. Tu vuoi migliorare? Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole. Noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Oppure no. Migliorare non è un verbo pronominale. Esiste la forma riflessiva migliorarsi, ma qua non serve. Io voglio migliorare. Io non voglio migliorare perché quello che so è sufficiente per quello che mi serve. Così come io posso dire che ho sufficiente cibo per le mie necessità per la prossima settimana. Oppure sufficiente è relativo a una scala di qualità di una competenza, della competenza della lingua italiana. Per cui la mia conoscenza può essere sufficiente, poi può essere discreta se è migliore, poi posso salire e posso dire che ho una buona conoscenza, poi un'ottima conoscenza e più su ancora un'eccellente conoscenza. Quindi la domanda è proprio questa. Vuoi migliorare, Hamza? Oppure tu hai sufficienti conoscenze per le tue necessità? Quindi le tue conoscenze sono adeguate ai tuoi bisogni. Lo chiedo a tutti, lo chiedo a te che mi stai guardando adesso. Tu vuoi migliorare la tua competenza della lingua italiana? O va già bene così? Scrivimelo nello spazio dei commenti.